Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, dopo il nazionale italiano di Edison e svariati feature match in cui abbiamo visto diversi appunto BioTurbo diciamo che sono stato un po' ispirato e quindi per l'appunto ho deciso di portarvi una versione sì di BioTurbo ma un po' più particolare dato che utilizza una delle mie carte preferite del, no del formato ma di tutto il gioco che sia il Norleras ovviamente il mio non è un insulto rivolto al nazionale o quant'altro, anzi è solo una maniera per memarci sopra ecco e mi è dispiaciuto anche non poter partecipare all'evento ma spero di poterci essere diciamo al prossimo, la prossima occasione che sia un nazionale o non so a prima di continuare se vi piacciono contenuti Edison o in generale retroformat quindi decrofile del genere, unboxing di prodotti vintage o quindi abbastanza anche vecchiotti del mondo di Yu-Gi-Oh lasciando un piaccio un commento e soprattutto iscrivetevi al canale dato che contribuirete in maniera sostanziale al mio canale e al mio lavoro comunque sia parlando del mazzo, il BioNorleras Turbo come vogliamo chiamarlo potremmo definire instabile rispetto al BioTurbo classico, quello assolutamente vero però ha delle giocate dal potenziale secondo me altissimo diciamo che poi l'idea mi è venuta anche dal voler mischiare il BioTurbo che è appunto un mazzo che è ben conosciuto all'interno del formato essendo anche uno dei più forti in assoluto e uno dei miei decks, il mio deck preferito che è appunto l'Opless Dragon che sfrutta i Norleras a proposito se dovesse interessarvi la lista Drago che sfrutta i Norleras come questo mazzo andatela a recuperare detto questo passo diciamo la parte un po' più interessante quindi la lista del mazzo allora per la parte Blackwing gioco 3 Bio ovviamente 3 Sirocco, stavo valutando di giocare anche Elfin, sì Elfin il Corvo però non sono riuscito a trovare slot gioco a 40 carte questo mazzo però qualora voleste giocare a 41 Elfin potrebbe essere anche un'ottima carta o potenzialmente togliere un Sirocco per dar spazio a Elfin non è neanche un'idea malvagia ma devo essere sincero mi sono trovato un pochettino meglio giocando 3 Sirocco e infine il Gate per quanto riguarda il reparto alla nera quindi passando al reparto Dark abbiamo i 3 Phantom of Chaos poi vi spiegherò anche perché nel gioco 3 3 Norleras, scusate 2 Norleras il nostro papino 3 Creatori Oscuri questi a prima vista potreste dire ma no forse è meglio giocarli a 2 perché mi fanno cliccare è vero è vero assolutamente vero però considerando il fatto che considerando meglio l'effetto di Norleras è sempre meglio averne 3 dato che me ne possono capitare 2 anche in mano e potreste limitarvi appunto la giocata del Creatore Oscuro che è veramente forte poi potrete anche riciclarlo con il Fantasma del Caos o meglio potrete riciclare il suo effetto con il Fantasma del Caos quindi secondo me a 3 ci sta tutta poi fate come volete questa è la mia lista poi gioco i 3 Graefer non gioco l'Armageddon Knight semplicemente perché con il Graefer andiamo a velocizzare un sacco di più il mazzo e abbiamo anche la combo di Norleras a primo turno vi spiego meglio possiamo scartare un'oscurità appunto di livello 5 superiore per calare lui specialmente se abbiamo lui in mano e un'altra oscurità oltre a quello scartato praticamente il gioco è fatto nel senso che appunto scartiamo il mostro di livello 5 superiore per evocare lui speciale scartiamo l'altra oscurità per mandarne un altro dal mazzo al cimitero che sarà eventualmente l'Orleras evochiamo il Fantasma del Caos effetto Fantasma del Caos boom a primo turno abbiamo fatto l'Orleras abbiamo tolto tutte le carte in mano all'avversario e noi peschiamo una quindi è per quello che vi dico giocate a 3 eventualmente il creatore oscuro e per diciamo aumentare questa giocata dato che l'obiettivo è calare secondo me con la logica del Norleras il Fantasma del Caos abbiamo sempre il Summoner Monk dato che caso che dovessimo avere già il Norleras al cimitero abbiamo un'altra maniera per calare abbastanza velocemente il nostro Fantasma del Caos qualora non dovesse essere già arrivato sul terreno rispetto alla versione Drago questa devo essere sincero è un po' più stabile e fortina nel senso che Drago ovviamente ha un potenziale ottiché gigantesco mentre questo diciamo va a limitare leggermente leggermente ve lo dico il fattore ciccione ecco chiamiamolo così però appunto avere i Baio e Sirocco risulta un po' più stabile dato che Sirocco è una mano meno pesante rispetto a un Redire su un Darko Rosso in mano ecco più facilmente controllabile poi va bene abbiamo lo Zombiantore la Necrogarna Gorz e Tragodia questo per quanto riguarda il reparto Dark quindi togliamo qui e poi abbiamo il reparto Lice Thorn dove gioco vabbè metterò anche Cartrooper Cartrooper è forte perché ci aiuta appunto a velocizzare il mazzo a millare poi il fatto che diventa un 1.900 ci aiuta a togliere carte bitone come che ne so sia il Neos la Rasciura eccetera eccetera ma soprattutto secondo me contro Drago per l'appunto possiamo togliere il Drago Kakimeru dato che praticamente ci blocca quasi tutto il mazzo a questo punto secondo questa logica potreste dire allora perché non giochi 3 Riko? perché diciamo ho preferito giocare diciamo che in generale io preferisco giocare 2 Riko e una Laila perché diciamo ho sempre paura della pack line mi vorrebbe da dire dell'avversario quindi più gli togliamo risorse più abbiamo un potenziale OTK che sale per l'appunto mentre Riko diciamo potrebbero essere risultare un po' più lentini a un certo punto del game vi voglio vedere diciamo quasi sempre a inizio partita quindi certo ha tre aumenti di potenzialità però è anche vero che potrebbero risultare un po' più morti a un certo punto della partita quindi preferisco diciamo giocare con questo ratio per le spell abbiamo i tre trade in giocare sempre tre che figo poi un controllamente la pulis che praticamente è quasi carta più forte del mazzo un alien of darkness che in questo mazzo ci sta bene meno in zombie secondo me heavy storm giant grenade card destruction rinforzi dell'esercito vabbè la brigata e infine con l'ultima carta la secoltura shock allora diciamo che vorrei giocarmi la cold wave di main ma non sono riuscito a trovare appunto lo slot quindi eventualmente potreste pensare anche a giocare come quarantonesima carta anche la 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 cold wave o nell'eventualità togliervi la card destruction anche se devo essere sincero card destruction per tutte le partite che ho fatto si è privilegiata letteralmente una carta decisamente forte dato che uno ci può aiutare a togliersi in mano mani briccose quindi abbastanza pesanti due ci aiuta a mandare risorse al cimitero come magari appunto i sirocco e i vaio e per l'appunto facendo anche questo abbiamo anche la possibilità di pescare che ne so abbiamo il norley i resti in mano abbiamo il distruggi carte e andiamo a pescare poi il fantasma del caos e abbiamo diciamo la cioè la combo l'effetto del fantasma del caos e mi è capitato anche spesso ripare il jump trunade più distruggi carte che praticamente mi ha permesso di togliere un sacco di risorse contro contro hero nello specifico poi vabbè gioco i rinforzi perché il graver obiettivamente è comodo vederlo subito averlo in mano per avviare velocemente la combo che vi accennavo prima rigata appunto per buttare le risorse al cimitero e la sepoltura dell'altra dimensione vabbè per recuperare diciamo i rimossi e magari rifare anche l'effetto di vaio poi per l'extrack direi che è abbastanza standard dato che il gioco vabbè due all'armata mette a fuoco grazie due maestria armatura nera se siete interessati appunto a carte coreane andate a vedere magari i miei unboxing e sfruttate diciamo i miei ferial link per jack store che è appunto il sito da cui potete reperire box coreani se avete appunto richieste o volete chiedere maggiori informazioni venite nel mio discord io o scrivetemi su instagram rispondo tranquillamente a tutti appena appena posso e facendo così diciamo sopporterete anche gratuitamente ed economicamente è il mio canale poi vabbè abbiamo anche il livello 8 infine poi vabbè abbiamo un catastro il bryonak il goyo il black cross torjuver archfield colossal fighter troppo forte lo stardust modestamente il mist dark and dragon e infine il kimenotech fine l'eventuale side per farci vedere velocemente due cyber draghi due corvo td che anche a tre non fanno male poi il tifone è appunto la cold wave che vi accennavo prima tre maschera della restrizione quindi belli prepotenti come contro monarca due virus distruggitek due decreti reali e la carta bastarda del formato due royal oppression quindi ora ragazzi nell'eventualità vi faccio una mano di prova proverò a mischiare abbastanza bene anche il mazzo dato che appunto che ho fatto la propria quindi era abbastanza in ordine quindi trovo abbastanza velocemente a mischiare 2.000 anni later finito vediamo di allure stiamo a due vediamo il fantasma tra niente abbiamo già la combo andiamo a rimuoverci in eventualità il secondo sirocco buttiamo la brigata per vedere quali risorse andiamo a macinare una epistor molto male un gorz molto male e un orleras e quindi qua già si fa più interessante dato che possiamo arricchire di più la combo quindi faccio special scartando sirocco scusate facciamo così ecco qua evoco il dark grapher effetto dark grapher mando lo zombie per mandarmi in questo caso vaio scusate mi sono interrotto un momento perché ho detto mangiò con i crogan per un secondo quindi abbiamo già risorse al cimitero mandiamo il fantasma del caos paghiamo mille attiviamo l'effetto quindi mettiamo tutto al cesso e peschiamo una pure un ritorno totale quindi bello grosso e nell'eventualità appunto dovesse servire che vogliamo già calare qualcuno possiamo già fare il vaio così rocco e calarci il nostro dov'è all'armata boom e sta più o meno per farvi un'idea del vaio dopo io vi ringrazio ragazzi per aver guardato il video fino a questo punto se siete appunto interessati a Edison e contenuti retroformat iscrivetevi al canale scusate se rinnovo l'invito e soprattutto soprattutto se dovessero interessarvi tornei Edison tengo tanto quel che è tenete d'occhio per l'appunto il canale unitevi al mio server Discord dato che appunto è la piattaforma che sfrutto chiamiamo così con la mia community anche per poter organizzare questo tipo di tornei aspettiamo quindi anche i box per il 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh! che apriremo non appena arriveranno spero presto e poi ci vediamo appunto con o un unboxing appunto dei box o dei profile l'Ice World non appena arriveranno le ultime carte per poter appunto registrare il video un abbraccio al vostro amico stardust di quartiera e see you next time